Campus, concorsi e seminari, un variegato calendario di eventi che conferma Rezzo come punto di riferimento per la danza italiana. Un programma di iniziative sino alla prossima estate con l'obiettivo di sostenere la formazione e la valorizzazione delle giovani promesse del panorama coreutico. Il nostro obiettivo è aiutare i ragazzi, questi 15 ragazzi che per ora sono stati selezionati, a migliorare, a crescere, a formarsi ad altissimi livelli e aiutarli in quello che poi sarà la loro futura carriera, quindi aiutarli a conoscere nuovi insegnanti, nuovi coreografi ed approfondire la loro passione. Il più ambizioso progetto riguarda la costituzione del CAB Collettivo Arezzo Ballet, il primo corpo stabile di ballo in rappresentanza della città che vivrà un momento di ritrovo sabato 18 e domenica 19 novembre. Questo è un gran bel sogno che noi ce la metteremo tutta, a noi farebbe molto piacere creare un gruppo di giovani danzatori che possono portare avanti il nome della città di Arezzo e quindi in tutta Italia e perché no anche in Europa. Il nuovo anno entrerà nel vivo sabato 10 e domenica 11 febbraio con il decimo concorso internazionale Piero della Francesca al Teatro Petrarca. Da quel momento in poi sono in preparazione delle date fino a maggio dove poi i ragazzi verranno portati in questa mini tournée dove si potranno esibire e poi vi sveleremo dove li portiamo. Noi ci occupiamo più dell'aspetto collaterale, Progetti per la Danza fa una manifestazione d'estate che porta ad Arezzo un centinaio circa di ragazzi, ragazzi che vengono sì per ballare, per imparare, per apprendere la danza ma che vengono anche con l'obiettivo di abbinare a questo tipo di apprendimento anche quello più culturale, più turistico se volete e quindi noi ovviamente essendo il nostro core business e il turismo appoggiamo questo tipo di iniziative.